Noi siamo partiti velocemente nel 2004 e abbiamo affrontato una tematica sociale quale quella della sicurezza stradale. Questo tema abbiamo visto che era un tema particolare di notevole attualità però solo con le conferenze, solo con incontri dedicati abbiamo visto che i ragazzi dopo un po' di tempo perdevano l'interesse e li perdevamo e abbiamo iniziato a pensare di realizzare un primo spot questo primo spot fatto con i ragazzi nel laboratorio audiovisivo e ci ha portato a Giffoni Film Festival che abbiamo vinto il secondo premio e ha iniziato un po' questa voglia di lavorare, l'entusiasmo e quindi si sono avvicinati alla tematica con l'utilizzo di questo strumento audiovisivo successivamente abbiamo realizzato questo sito dedicato dove poi Marco vi spiegherà velocemente di che cosa si tratta e che cosa troviamo e poi abbiamo realizzato altri spot i ragazzi si sono interessati, hanno iniziato a frequentare il nostro laboratorio audiovisivo e infine abbiamo realizzato un vero e proprio cortometraggio un piccolo film che si chiama Quel coraggio di cambiare strada è un po' una storia realizzata all'interno dell'istituto abbiamo fatto partecipare tutto il personale della scuola la polizia che è venuta a scuola, la polizia municipale, la cruce rossa quindi abbiamo portato le istituzioni all'interno dell'istituto le istituzioni che si occupano di sicurezza stradale e quindi questo ci ha portato un grandissimo riscontro cosa bellissima che i ragazzi al primo intervento della polizia o della polizia municipale, la polizia di stato li vedevano con un occhio un po' strano poi successivamente hanno iniziato anche a familiarizzare ad accettare l'istituzione successivamente abbiamo poi trattato un'altra tematica anche essa molto attuale, i rischi da nuove tecnologie come vedete oltre all'aspetto audiovisivo noi abbiamo associato la realizzazione di un sito dedicato dove si possono trovare documenti, relazioni, tutte le nostre attività un po' alcune cose importanti per i ragazzi stessi un momento di comunicazione e anche un momento di riflessione e di acquisizione di competenze perché tutto questo lavoro, la gestione dei siti è fatta interamente dai ragazzi chi ha iniziato il primo sito adesso si è laureato già alcuni ragazzi sono già laureati al Politecnico Gianluca Ramundo che è venuto con me a Bruxelles oggi aveva una lezione importante a Politecnico perché studia Ingegneria e Informatica vi porta i saluti, voleva essere con noi domani verrà a salutarvi Marco che quest'anno fa quinta ed è il presidente della consulta degli studenti di Torino quindi abbiamo creato un sistema anche con questo progetto abbiamo realizzato un video con il Nucleo Investigativo Scientifico e Tecnologico della Polizia Municipale di Torino proprio perché ovviamente questi rischi dall'uso delle nuove tecnologie presenta anche delle dipendenze quindi ci siamo collegati con le Molinette di Torino abbiamo fatto uno studio sul cyberbullismo abbiamo fatto diverse cose che sono tutte testimoniate e documentate nel sito di riferimento l'anno scorso con una seconda, una mia seconda abbiamo realizzato un altro progetto sicurezza a scuola ovviamente anche questa è una tematica trasversale della sicurezza perché la sicurezza possiamo fare tutte le lezioni che vogliamo però se non si lavora con i ragazzi se non le fanno loro queste cose difficilmente si riesce a raggiungerli e anche qua con questa classe abbiamo lavorato hanno realizzato il sito hanno realizzato dei video e quindi abbiamo voluto introdurre all'interno del nostro istituto questa didattica fatta dai ragazzi per i ragazzi tra parentesi con noi che siamo stati un po' all'esterno a vigilarli, a controllarli mi scuso se sono stato un po' lungo voglio lasciare la parola ai miei colleghi che hanno collaborato e sono stati sempre vicini ai nostri progetti allora due cose sul lavoro che è stato fatto in questi dieci anni dall'istituto Avocado il Laboratorio Audiovisivi nasce nel 1999 grazie anche a un contributo del Museo del Cinema e da allora sono stati prodotti fino al 2009 soprattutto spot riguardanti la sicurezza stradale tipo quello che adesso vediamo e essendo degli spot che durano notoriamente soltanto 30 secondi si lavorava con gli studenti soprattutto nel laboratorio diciamo facendosi venire l'idea che poi veniva realizzata con le videocamere che avevamo a disposizione e poi naturalmente con i programmi di montaggio sul computer come si sa in questi anni la tecnica si è particolarmente evoluta quindi noi abbiamo vissuto in questi dieci anni in questa decina di anni anche noi questa evoluzione perché inizialmente usavamo anche delle volte delle videocamere analogiche poi c'è stato il digitale e poi ultimamente si sa che il digitale si è ulteriormente evoluto tramite l'alta definizione nel 2009 si è deciso di fare diciamo una specie di salto di qualità si è realizzato il primo cortometraggio avente come argomento sempre la sicurezza stradale questo cortometraggio qui vediamo ancora uno degli ultimi spot che sono stati realizzati questo cortometraggio si intitola quel coraggio di cambio a strada ovviamente nel passaggio dagli spot al cortometraggio diciamo le cose sono diventate più complesse più complesse si è lavorato sempre in equip con gli studenti tuttavia si è dovuto ricorrere a una vera e propria sceneggiatura in questo caso con il contributo soprattutto degli studenti perché essendo una tematica che riguarda i giovani spesso il linguaggio col quale si era costruita la sceneggiatura poi andava modificato diciamo rendendolo più tra virgolette giovanile tutto sommato è venuto fuori un lavoro che è un po' professionale è un po' artigianale e il cortometraggio sarebbe poi questo nel 2010 poi si è deciso di realizzare sempre un cortometraggio questa volta sull'uso delle nuove tecnologie nell'anno successivo cioè 2011 c'è stata l'occasione di 150 anni dell'unità d'Italia un'occasione di carattere culturale però ovviamente ha a che fare come con la scuola e qui si è realizzato un cortometraggio che si basa su tre episodi che si sviluppano a distanza di 50 anni a partire da 2011 quando per la prima volta il nostro paese ha festeggiato i 50 anni per arrivare per arrivare al 2011 anno in cui si sono celebrati i 150 anni e il cortometraggio naturalmente è questo qui si vede il trailer e anche questo è stata un'esperienza per la quale abbiamo dovuto ricorrere al casting è stata anche un'esperienza dispendiosa un pochino sul piano economico perché se qualcuno vede diciamo così questo video si renderà conto che ci sono dietro delle spese non indifferenti dunque forse è stato già detto io prima ero uno studente della scuola e poi ho continuato a rimanere all'interno della scuola come ragazzo che seguiva gli altri ragazzi per produrre dei video e adesso è diventato il nostro professore perché senza Alessandro sicuramente non avremmo potuto fare nulla di ciò che avete visto quindi tantissimo merito è il suo per raccontarvi in breve come sono andate le cose abbiamo cercato di tirare su le sorti del laboratorio audiovisivo interno alla scuola che dopo un periodo di attività abbastanza ecoproduttiva stava subendo una fase di abbandono semplicemente perché non c'erano più finanziamenti noi con la nostra buona volontà ci siamo messi in attivo e abbiamo provato a produrre delle cose che venivano fatte davvero con pochissime risorse e da qui appunto gli spot che avete intravisto dopodiché qualcuno ogni tanto bussava alla nostra porta e ci diceva noi crediamo in voi e ci davano qualche piccolo finanziamento per poter produrre per esempio il cortometraggio quello sulla sicurezza stradale di cui avete intravisto qualche immagine e poi quello dell'anno scorso che diciamo che è quello che ha raggiunto un livello qualitativo più alto rispetto agli altri che è quello sulla storia dei 150 anni dell'Unità d'Italia a me piace lavorare con i ragazzi ed è sempre interessante ascoltare le loro idee provare a farli partecipare all'interno di progetti di questo tipo che sicuramente non rientrano nella normale attività scolastica e quindi riuscire a farlo a coinvolgerli in un'attività estrascolastica vedere che loro partecipano con grande entusiasmo a questi progetti ti fa capire che i ragazzi hanno voglia di fare delle cose poi alcuni ovviamente si perdono per strada altri invece proseguono e magari scoprono dei talenti che fino a quel momento erano celati noi abbiamo un progetto che in realtà è molto difficile da riuscire a realizzare che sarebbe quello di riuscire a riportare in auge il laboratorio audiovisivo interno della scuola per il quale ovviamente ci vorrebbero dei finanziamenti perché le attrezzature anche se adesso costano molto meno rispetto a quello che era il video professionale di una volta avremo bisogno dei finanziamenti per poter magari aprire il nostro laboratorio anche ad altre scuole e fare in modo che magari appunto questo laboratorio possa diventare un punto di riferimento per le scuole della provincia della regione non so però comunque ci piacerebbe andare avanti e non lasciare diciamo questi singoli progetti come fine a loro stessi questa è la più grande difficoltà la più grande difficoltà anche se noi diciamo l'avvocato siamo fortunati perché il dirigente ci dà molto spazio ci dà la possibilità di esprimerci però ultimamente come il mio caso io dopo 25 anni perdo la cattedra all'avvocatro quest'anno sono utilizzato qua all'avvocatro ma non ho più la mia titolarità e quindi sono DOP i colleghi lo sanno però la passione e la voglia di lavorare con i ragazzi per la scuola ci porta a fare queste cose il collega in pensione viene qua i ragazzi come dicevo che sono all'esterno al Politecnico domani verrà perché ci tiene a venire cioè questo significa credere in qualcosa e quindi quando si crea l'entusiasmo e poi dover rompere perché Alessandro adesso è un professionista e viene a scuola lavora gratis a volte riusciamo a fargli avere qualcosa e questo significa credere nel valore e nell'istituzione della scuola come a volte il piacere di adesso facciamo parlare Marco perché i ragazzi devono esprimersi ma il piacere come parlavo con un poliziotto dice noi le mostrine ce le abbiamo cucite sulle spalle così noi facciamo gli insegnanti perché ci crediamo e facciamo qualcosa io sono Marco Sciretti e frequento il quinto anno di perito informatica all'Avogadro io ho iniziato il progetto per gioco direi un giorno il professor Mandarano è arrivato in classe e mi ha chiesto se volevo partecipare a questo progetto tre anni fa io ho detto proviamoci non sapevo ancora utilizzare bene i software per la creazione di siti web ma con un po' di istruzioni ho imparato e per me questo è diventato un lavoro adesso infatti io creo siti web adesso questo progetto è stato importantissimo perché mi ha permesso di girare l'Italia e di andare a visitare città italiane dove abbiamo vinto premi dove siamo stati premiati io mi occupo della parte web e quindi dei due siti sicurezza stradale e rischi delle nuove tecnologie il sito della sicurezza stradale è importantissimo perché contiene anche una categoria che si chiama il patentino la nostra scuola da molti anni effettua gli esami per l'idoneità alla guida del ciclomotore e su questo sito i ragazzi possono studiare possono scaricarsi i libri e possono effettuare test e provare i quiz prima dell'esame questo sito contiene anche la categoria dei video come avete visto prima le normative quindi tutte le leggi il codice della strada tutto quello che serve per una persona che guida un ragazzo che guida un ciclomotore o semplicemente per una persona che cammina per strada inoltre è stato importantissimo il progetto perché adesso sono diventato presidente della consulta provinciale degli studenti ho capito come un progetto deve essere fatto dagli studenti per gli studenti infatti come ha detto il professore è stata avvicinata alla scuola e agli studenti le istituzioni la polizia la polizia municipale e i primi giorni gli studenti vedevano il poliziotto a scuola come lo sbirro vedevano il poliziotto come un nemico praticamente e invece nel video possiamo vedere come alla fine del video il ragazzo chiama il poliziotto e lo chiama come se fosse un amico per salvare il suo compagno il suo amico il progetto dei rischi delle nuove tecnologie è nato nel 2009 a maggio del 2009 quando insieme alla polizia municipale e al nucleo di investigazioni scientifiche e tecnologiche abbiamo deciso di effettuare questo progetto e di andare a caricare sul sito il materiale sia per i ragazzi che utilizzano internet che per i genitori per vedere che per controllare i figli per controllare che i figli non vengano attaccati da delle persone che vogliono abusare di loro abbiamo creato questo video dove c'è anche la testimonianza di una ragazza che è stata contattata da un pedofio da una persona di 50 anni che diceva di essere un ragazzo e voleva mettersi in contatto con lei e abbiamo capito come i file cancellati dal cellulare possono recuperarsi e quindi servono per le indagini per le ricerche per tutte le ricerche e l'altro sito invece è quello sulla sicurezza scuola dove anche qui è stato fatto un video all'interno della scuola per parlare dei rischi che ci sono che ci possono essere nella palestra i rischi che possono esserci nei laboratori di elettronica quindi l'utilizzo della corrente è boh grazie a tutti ringrazio ancora il professor Mandarano per l'invito e il presidente Luca per l'invito grazie grazie a tutti grazie a tutti